Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con i tarocchi della luce e gli oracoli appunto delle fiamme gemelle di Agatha Giordano. Allora che cosa andremo quest'oggi a chiedere ad entrambi i mazzi ovviamente primariamente appunto ai tarocchi e successivamente agli oracoli. Ha capito o capirà di aver sbagliato? È pentito per avermi ferito? Pagherà per avermi ferito? O sta già magari pagando per avermi ferito? Mi chiederà scusa? Cercherà il mio perdono? Ovviamente stiamo parlando di una persona con la quale voi avevate una storia o comunque una frequentazione che potrebbe essersi più o meno interrotta, potreste anche semplicemente aver avuto una discussione, non deve per forza essersi interrotta la storia, una discussione che però vi ha ferito o avete scoperto dei comportamenti di questa persona assolutamente inappropriati nei vostri confronti. La cosa vi ha ferito e ovviamente avete fatto partecipe chiaramente l'altra persona di quello che ha combinato. Vogliamo cercare di capire se questa persona è consapevole di quello che ha combinato, cioè di avervi deluse, di avervi ferite. Ovviamente qui non stiamo parlando di situazioni estreme che possono avervi portato a subire anche delle angherie o comunque delle forme di aggressione verbale o anche fisica da parte di un'altra persona perché in questo caso io ragazze come dico sempre ormai in tutte le stese in questo caso non è necessario ascoltare questa stesa, non si deve essere qui, si deve essere lontano dall'altra persona, non ci si deve neanche chiedere più se la persona possa o meno essersi pentita, dovete semplicemente dimenticare questa persona e allontanarla al più presto da voi. Quindi io lo ripeto, in questa stesa stiamo parlando di una persona che può avervi ferito con una frase, con un comportamento inappropriato, non stiamo ovviamente parlando di aggressività e di aggressione perché per questo non serve questa stesa e non dovreste essere in questa stesa, dovreste iniziare una vostra vita lontano da questa persona senza neanche chiedervi più se questa persona vi pensa ancora, cosa pensa di voi. Una persona del genere va cancellata, cancellata, d'accordo? Quindi qui stiamo parlando di una situazione ben diversa, d'accordo? Quindi vogliamo cercare però di capire se questa persona ad oggi si è comunque resa conto di avervi ferito, di avervi fatto comunque del male e se sta pagando in termini di per esempio amara consapevolezza, solitudine, rimpianti, rimorsi, sensi di colpa, vogliamo cercare di capire ad oggi cosa pensa, aiutandoci anche con gli oracoli di Agatha Giordano, di voi, della situazione cosa vorrebbe dirvi. Quindi vogliamo cercare di capire ad oggi come sta questa persona, cosa vede ancora di bello in voi invece di negativo, cosa ha nel cuore, le influenze esterne a voi, quindi amici, parenti, conoscenti e ovviamente anche una carta molto importante, cioè quel filo rosso che tutt'oggi appunto ancora vi lega, dunque che rapporto c'è ancora ad oggi con questa persona. Infine una carta fondamentale che è appunto la carta dei consigli che vi vengono dati appunto dagli arcani su come potreste agire e ovviamente come ultima carta il futuro, cioè come evolverà ovviamente la situazione tra di voi. Dunque ovviamente noi allontaniamo ma solo momentaneamente appunto le carte oracolari e iniziamo appunto la stesa con gli arcani appunto con i tarocchi e ovviamente per il principio di sincronicità vogliamo sapere dunque per tutte le persone che in qualche modo incapperanno in questo video e che hanno ovviamente sofferto a causa delle parole o del comportamento sbagliato appunto di una determinata persona con la quale avevano una storia o anche semplicemente una frequentazione, una conoscenza, storia che vi ripeto potrebbe o meno essersi appunto interrotta. Vogliamo cercare di capire a questo punto questa persona appunto cosa pensa ad oggi di voi, della vostra storia e ovviamente del vostro rapporto. Utilizzerò come avrete capito il metodo degli otto arcani o sette più uno come dico sempre. Allora Perfetto 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 Allora momentaneamente allontano appunto il mazzo dal tavolo distesa di modo che appunto possiate avere una visione più chiara e completa ovviamente delle carte. Allora iniziamo dalla prima posizione ossia il presente della situazione. Cerchiamo dunque di capire questa persona come sta vivendo questo momento presente e qui abbiamo l'otto di bastoni. Questa persona vi vuole sentire quindi chiaramente è già diciamo un'ottima partenza cioè questa è una persona che ha voglia di comunicare con voi e ovviamente che a breve vi chiamerà. O comunque vi manderà un messaggio. È chiaro che in tarologia le carte che si riferiscono ovviamente al presente non rappresentano con una certa fissità il presente il momento presente ma appunto rappresentano anche un passato più recente quindi qualche giorno fa oppure un futuro ovviamente imminente quindi tra qualche giorno. Quindi questa persona ha intenzione di scrivervi in questo momento cioè nel momento in cui voi andrete appunto a vedere la stesa oppure evidentemente anche tra pochi giorni. Comunque una persona che ha in mente di appunto iniziare un percorso dialogico con voi che comporti ovviamente anche una presa di posizione concreta e un chiarimento. Lotto di bastoni è una carta molto bella devo dire la verità perché ci parla comunque della volontà se non altro da parte di questa persona appunto di aprirsi al dialogo. Quindi nel caso in cui non vi siate comunque sentiti da diverso tempo o da qualche giorno sappiate che questa persona ha tutta l'intenzione di interrompere questo ciclo di negatività. Lotto di bastoni ci parla comunque di una persona che non ha particolarmente riflettuto non è una carta di spade non è la carta della papessa d'accordo ma è una persona che in questo momento sente molto forte l'impulso parliamo di bastoni di appunto vedervi di rivedervi di abbracciarvi in qualche modo di poter riprendere un contatto con voi agendo in maniera veloce perché la caratteristica dell'otto di bastoni è proprio quello di accelerare vedete appunto delle azioni per portare dei cambiamenti portando sorprese notizie e nuove proposte. Quindi questa è una persona che ha intenzione di anche apportare dei cambiamenti importanti quindi anche se vogliamo rinnovare il vostro rapporto è chiaro che è una situazione direi piuttosto positiva proprio perché chiaramente il 5 di bastoni ci parla comunque di una persona che probabilmente è tornata un po più serena rispetto evidentemente all'ultima volta in cui l'avete vista o sentita quindi ha un atteggiamento un po più ottimistico se così vogliamo anche nei confronti ovviamente della sua situazione l'otto di bastoni parlando appunto di bastoni ci parla proprio di anche professione ambiente lavorativo quindi una persona che potrebbe appunto in qualche modo risentire positivamente di alcuni cambiamenti che stanno comunque avvenendo in ambito professionale per appunto sentirsi bene anche nel rapporto con voi e in qualche modo pensare anche di ricompensarvi appunto per qualcosa che voi potreste aver fatto per lui cioè per esempio il fatto che voi abbiate portato tanta pazienza o nel caso debba restituirvi qualcosa questa persona ha intenzione di restituirvi quello che deve per esempio nel caso in cui le abbiate prestato del denaro d'accordo? L'otto di bastoni però ci parla anche di spostamenti appunto non solo per quanto riguarda le comunicazioni ma anche spostamenti pratici quindi questa persona potrebbe effettuare un viaggio o comunque una piccola gita o qualcosa che potrebbe in qualche modo portargli ovviamente più serenità è chiaro dunque che è una persona che si sente molto più tranquilla che in questo momento obiettivamente sente positive le future iniziative che in qualche modo vuole intraprendere con azioni vi ripeto veloci fulmine quindi pensa al progresso pensa al dinamismo e pensa sicuramente a un progetto forse un po' azzardato perché comunque parliamo pur sempre di bastoni ma che può portare appunto ad un cambiamento può essere anche un trasferimento di lavoro oppure addirittura anche un trasloco in ambito professionale si può parlare anche di un avanzamento di carriera di un nuovo contratto di un'efficienza e ovviamente anche di una preparazione professionale che può essere notata per esempio dai vari capi e questa cosa può fruttarli da un punto di vista sicuramente concreto e pecuniario d'accordo? quindi sicuramente è una persona che in questo momento risente anche di situazioni esterne al vostro rapporto che lo fanno sicuramente sentire decisamente in maggior positività ed energia cioè mi sembra una persona direi piuttosto carica d'accordo? Lotto di bastoni può anche parlare per alcuni casi e per alcuni di voi di una dichiarazione amorosa quindi potrebbe in qualche modo parlarvi di quello che prova per voi ecco perché ha anche il senso della ricompensa no? se magari è una persona che sino ad ora non ha particolarmente espresso quello che provava e pensava ovviamente per voi e di voi ecco questo è il momento buono per farlo e questa persona lo vuole fare d'accordo? quindi ha delle buone speranze per il futuro cioè momento diciamo positivo per cui in questo momento sente di poter ritornare da voi è chiaro che però ragazzi tutto questo vi ripeto entusiasmo non ci parla di una reale riflessione cioè vi ripeto non abbiamo la carta dell'eremita in questo caso cioè non è una persona che si è guardata dentro è una persona alla quale appunto le cose stanno andando bene da un punto di vista appunto professionale piuttosto che economico e ovviamente in qualche modo viene trascinato da questa positività anche per quanto riguarda il rapporto con voi però ad ora e ad oggi questa non è una persona che si è guardata particolarmente dentro cioè sta agendo sulla scorta di un impulso potrebbe essere anche un impulso erotico importante perché parliamo di bastoni quindi è una persona che sicuramente vi desidera molto e che potrebbe tornare da voi proprio in virtù di questo desiderio chiaramente però vi ripeto attenzione perché se ovviamente il nostro obiettivo e penso e spero che sia questo soprattutto appunto il vostro quello appunto di capire se questa persona ha preso coscienza dell'avervi fatto stare male ovviamente ho i miei dubbi almeno in questa prima posizione d'accordo? e voi sapete che la prima carta ragazzi è fondamentale la prima carta di una stesa può essere una stesa a 12 carte, 13 carte, a 2 carte ma la prima carta è fondamentale perché è un po' come il soggetto dico sempre io di una frase cioè spiega ovviamente tutte le altre e a sua volta ne viene spiegata d'accordo? quindi qui c'è un'energia positiva che questa persona sente anche ovviamente molto forte per quanto riguarda il rapporto con voi d'accordo? quindi vi ripeto potrebbe chiamarvi a breve farvi una sorpresa mandarvi un messaggio estemporaneo che possa comunque portarvi piacere d'accordo? vediamo in questa posizione i pro cioè cosa vede questa persona di bello ancora in voi nel vostro rapporto e qui abbiamo un'altra carta di grado 8 l'otto di denari allora questa persona vi vede una donna estremamente intelligente estremamente concreta una donna molto forte e di gran carattere obiettivamente perché l'otto di denari parla sempre di chi sa lavorare sodo chi sa tirarsi su le famose maniche e quindi lottare per quello in cui crede quindi in realtà vi vede come una persona non solo molto bella e attraente ma anche come una persona ben disposta nei suoi confronti che comunque ha cercato se non altro anche attraverso un rimprovero di aiutarlo quindi in realtà non ha una visione di voi negativa cioè non pensa che voi siate la classica persona crudele o troppo permalosa che può essersela presa per uno nulla e cercare vendetta assolutamente no vi vede come una persona intellettualmente ovviamente molto preparata come una persona che non teme coraggiosamente appunto gli sforzi come una persona che comunque ha una certa disciplina morale e quindi una persona che può essergli d'aiuto d'accordo? quindi una persona anche nel caso in cui lo siate benestante da un punto di vista economico ma che comunque tutto quello che ha ottenuto non è stato per fortuna ma perché ovviamente ve lo siete guadagnate e sudate d'accordo? vi vede come una persona capace comunque vi ripeto anche e soprattutto in ambito economico di risparmiare sul superfluo vi vede come una persona capace anche di investire correttamente il denaro e comunque di una persona buona e generosa che però sa dare in particolar modo dei consigli molto preziosi quindi vi vede devo dire com'è in realtà una donna molto forte e direi anche la donna ideale quindi una donna assolutamente pronta ad aiutarlo ma chiaramente pronta ad aiutarlo in maniera concreta cioè portandola ad una riflessione e ovviamente ad una maturazione sana quindi vi vede come una persona capace di dargli i giusti consigli una persona che può spingerlo verso il successo verso il cambiamento d'accordo? è una persona molto equilibrata sicura di sé che comunque è in grado di stare accanto ad una persona in maniera sana cioè il fatto che voi vi siate imposte a questa persona non è dispiaciuta affatto come cosa assolutamente anzi è un elemento evidentemente che ha letto in maniera molto positiva perché ha scoperto la vostra forza di cui molto probabilmente non era particolarmente a conoscenza d'accordo? quindi vi vede come una persona capace anche attraverso i suoi rimproveri e magari anche attraverso la vostra severità perché potreste aver agito in maniera severa ma vi vede come una persona che agisce però per onore e ovviamente per cognizione di causa quindi una persona intelligente che non ha sbagliato ad imporsi e che anzi saprebbe aiutarlo aiutarlo evidentemente a diventare più grande quindi anche in un percorso chiaramente di maturazione quindi vi ripeto ha un'immagine di voi molto molto positiva quindi non soltanto vi ripeto di donna assolutamente bella e attraente ma anche una persona in grado di ovviamente scegliere la propria strada e anche aiutare lui nel proprio percorso vi vede come una donna vi ripeto intelligente una donna molto forte molto coraggiosa determinata in grado proprio di resistere alle intemperie della vita perché vi ripeto lotto di denari di pentacoli parla proprio della capacità di sopportare la fatica per arrivare ad un successo quindi ha un'opinione molto positiva devo dire di voi vediamo però a questo punto il contro della situazione cioè che cosa questa persona teme un'altra carta di denari il 2 di denari questa volta allora ragazze nel caso in cui questa persona sia una persona impegnata quindi nel caso in cui voi abbiate una storia con una persona impegnata stiate chiedendo di una persona impegnata il problema di questa persona è la scelta cioè questa è una persona che non sa ancora al momento effettuare una benedetta scelta è una persona 2 di denari come tutte le carte di grado 2 in pieno conflitto interiore perché è una persona che deve riuscire a capire quale delle due strade scegliere o prendere come però sta ragionando non è un 2 di coppe cioè non sta ragionando in base ai sentimenti no assolutamente sta ragionando con un 2 di denari cosa vuol dire che sta valutando i pro e i contro della vostra situazione cioè nel caso in cui venga a vivere per esempio con voi e scelga voi rispetto alla situazione economica che sta vivendo con la compagna ecco questo non è un atteggiamento che mi piace ok e di fatti ovviamente viene in posizione di ostacolo cosa vuol dire che questa persona ragiona troppo ovviamente per quanto riguarda la mera materialità questa è una persona che difficilmente ragiona col cuore ma ragiona sulla scorta dell'istinto e ragiona sulla scorta qui abbiamo già due carte di denari di quello che possa essere il proprio tornaconto economico finanziario questo non va bene soprattutto nel caso vi ripeto in cui sia una persona impegnata e che debba scegliere tra due donne in virtù di un maggior potenziale di tipo economico non siamo al mercato quindi non deve scegliere tra un capo d'abbigliamento che costa di più e un altro che costa di meno questa è una persona che deve imparare a guardarsi dentro ve l'ho già detto dall'inizio non è una persona che si sta guardando dentro sta valutando due di denari però è contro di una situazione per cercare di non avere problematiche future ma da un punto di vista economico cioè una persona che vuole avere le spalle coperte questo nel caso in cui sia una persona impegnata nel caso in cui sia una persona comunque libera e voi stiate chiedendo di una persona libera quindi il vostro era un rapporto una frequentazione una storia con una persona libera è chiaro che questa persona sta comunque scegliendo non tra due donne ma tra se stesso e voi ma lo sta facendo anche in questo caso non in termini di sentimenti non è un due di coppe ma sicuramente sta ovviamente scegliendo in base vi ripeto alla propria comfort zone cioè questa è una persona che non vuole per carità dover in qualche modo scontrarsi con forti mutamenti e cambiamenti è una persona che ama lo status quo e quindi piuttosto che in qualche modo ritrovarsi di nuovo in una situazione di grande conflittualità con voi come quella che c'è stata sino ad ora sta anche addirittura pensando comunque di rimanere per un certo periodo da solo quindi lasciando questa situazione in una situazione appunto di stagnazione quindi in un momento di fermo di fissità le carte di grado 2 ci rappresentano appunto una situazione di fermo quindi di stabilità in questo caso però negativa quindi è chiaro che è una persona che addirittura vi ripeto in questo momento nel caso in cui sia una persona impegnata è ferma ad un bivio e non sa perché questa è una posizione negativa quindi non sa cosa scegliere non è pronta a scegliere assolutamente no ma nel caso in cui sia una persona libera single ovviamente è una persona che comunque ha maggior ragione sta affrontando un momento di difficoltà perché non sa ovviamente se tornare da voi e impegnarsi di nuovo nel rapporto con voi oppure se lasciarlo per il momento in stand by e interrotto non è una torre non vuole una chiusura questo sottolineamolo però vuole tenervi comunque fermi in stand by questo non va bene perché non è che una persona può parcheggiarne un'altra come appunto un peluche e riporlo ovviamente nell'armadio finché poi non ha voglia e si sente adeguatamente energico per poterlo riprendere assolutamente no quindi ragazzi attenzione nel momento in cui questa persona vi voglia comunque richiamare perché abbiamo visto con questo otto di bastoni che potrebbe volervi appunto richiamare e anche semplicemente rivedere ma perché perché è una persona molto legata a voi da un punto di vista erotico e sessuale cioè voi piacete molto a questa persona attenzione a rimanere in quella posizione che avete avuto sino ad ora cioè soprattutto nel caso in cui come vuole il titolo dell'assesa questa persona vi ha fatto del male vi ha fatto soffrire cioè non dimenticate non cancellate il fatto che questa persona nel momento in cui vi ha ferito era consapevole ovviamente di ferirvi e a lui non è importato in quel momento di ferirvi poco importava a lui di come potesse sentirvi voi quindi attenzione a cancellare il malfatto e il maltolto quindi cercate comunque di permanere in una situazione di coerenza 8 di denari questo a prescindere da quello che vi verrà comunque consigliato in questa posizione ma ovviamente ogni carta dà già di per sé un consiglio quindi già il fatto che questa persona si afferma ad un bivio e non sappia cosa scegliere e addirittura potrebbe preferire di lasciare la storia per il momento un po' congelata importandosene poco di nuovo di come potreste stare voi questo non va bene quindi è un atteggiamento fortemente egoistico quindi attenzione al fatto che questa è una persona immatura nel caso in cui sia una persona giovane quindi molto giovane ok nel caso in cui stiamo parlando di un ventenne ci può stare una situazione di questo tipo ma nel caso in cui stiamo parlando di una persona adulta e matura questo è un atteggiamento sciocco oltre che un atteggiamento malsano nei vostri confronti cioè questa persona si prende troppo tempo per poter gestire la sua interiorità quando le cose gli vanno bene allora torna da voi quando ha desiderio fisico di voi allora torna da voi se no ovviamente anzi addirittura potrebbe pensare di rimanere fermo questo è un bel furbetto d'accordo? seppur vi posso confermare una persona attratta da voi assolutamente vi vede una donna ideale assolutamente vi vede una donna forte coraggiosa determinata assolutamente una donna che potrebbe stare al suo fianco certamente vi vuole vedere sentire a breve certamente ma attenzione però perché sì questi sono i lati positivi ma questi sono i lati negativi qui abbiamo una persona immatura e infantile che ovviamente si prende tranquillamente le sue tempistiche finché non ha risolto le sue problematiche e ad oggi non è in grado di effettuare una scelta perché deve valutare i pro e i contro della situazione per evitare di avere problemi in futuro d'accordo? quindi è una persona che non sa ovviamente in qualche modo di panare la matassa di una scelta quindi è una persona che non sa ciò che vuole e non sa obiettivamente che cosa potrebbe effettivamente far bene a se stesso si conosce poco d'accordo? vediamo che cos'ha nel cuore questa persona tre di spade allora siete state sicuramente particolarmente dure o comunque anche nel caso in cui a voi non sia sembrato posso garantirvi di sì tre di spade è una carta vedete direi piuttosto diciamo chiara nel significato deducibile per cui abbiamo un cuore ovviamente trafitto quindi questa è una persona che ovviamente ci è rimasta molto male è una persona che si è sentita ferita evidentemente da un comportamento anche solo da una vostra parola che ora in qualche modo gli sta ritornando nella mente perché finalmente qui abbiamo una carta che rappresenta il mentale però purtroppo ragazze di nuovo ve lo devo ripetere guardate come ovviamente la stesa è meravigliosamente logica che cosa vi ho detto col due di denari che è una persona che in questo momento addirittura può mettere anche sul piatto della bilancia la possibilità di rimanere comunque per un certo periodo lontana da voi proprio perché non sa obiettivamente cosa scegliere per il proprio futuro il tre di spade ci parla proprio del sistema direi più semplice forse anche codardo per evitare i conflitti cioè quello di prendere le distanze cioè questa non è una persona che ovviamente si sente forte abbastanza per riaffrontarvi a muso duro o comunque in qualche modo per riparlare dell'argomento quindi nel caso in cui questa persona possa contattarvi lo farà in maniera estremamente superficiale d'accordo o comunque lo farà sicuramente perché l'otto di bastoni ci parla proprio della volontà vi ripeto di comunque ricontattarvi però non andando ad approfondire certi argomenti che questa persona terrà ben nascosti dentro se stessa che cosa vuol dire il tre di spade ragazzi parla di un dolore non manifesto vedete questa ragazza pare ovviamente soffrire molto ma è da sola quindi non si sta confrontando con nessuno è come se in qualche modo vedete il proprio urlo venga in qualche modo assorbito dall'ambiente attorno a sé dal vento venga portato via dal vento quindi è come se in realtà questa persona in questo momento non riuscisse a aprire il proprio cuore per farvi capire quale sia l'origine del suo problema che cosa lo turbi che cosa lo abbia portato realmente a sbagliare con voi e ovviamente ha un'enorme difficoltà in qualche modo nel affrontare la questione reale che c'è alla base di questo disagio quindi vi ripeto Otto di Bastoni sì potrebbe volervi contattare assolutamente sì anche magari a breve tempo con un'energia molto più positiva cercando di rallegrare la situazione tra di voi ovviamente mirando anche ad un contatto fisico tra di voi ma non tirando fuori quello che è il reale problema quindi vi ribadisco il sistema più semplice è proprio quello di prendere le distanze anche dal proprio stesso dolore quindi questa è una persona che comunque vi ripeto fa molta fatica ad esprimere a parole quello che ha dentro le proprie emozioni i propri turbamenti cosa magari lo porti anche a sbagliare con voi ed è chiaro che questa persona in questo preciso momento non lo sta facendo neanche con voi e difficilmente lo farà con voi perché il 3 di spade ci parla comunque di una comunicazione che comunque è superficiale o che comunque non arriva a fondo del problema cioè questa persona nel momento in cui si rapporterà a voi ovviamente non vi dirà le cose esattamente come stanno quindi se il problema tra di voi è stata una serie di menzogno di bugie attenzione perché con il 3 di spade potremmo avere di nuovo il cadere nello stesso errore quindi il perdurare in una situazione che ovviamente causa ristagno due di denari quindi una persona che tende a non portare la situazione ad una grande evoluzione cioè questa persona non vuole effettuare una scelta nel caso in cui sia una persona impegnata o nel caso in cui sia una persona libera in questo momento non si sente di impegnarsi a fondo con voi il 3 di spade ci parla di disordine ragazzi disordine emotivo di smarrimento di una condotta ovviamente non moralmente corretta quindi è un momento di negatività nella vita di questa persona ma vi ripeto da un punto di vista interiore non da un punto di vista pratico come vi dicevo con l'otto di bastoni per cui potrebbe aver ricevuto delle ottime notizie in ambito professionale o anche in ambito economico ma qui le difficoltà sono in ambito emotivo nel caso in cui sia una persona impegnata una persona che non riesce a distaccarsi dalla persona che ha al suo fianco quindi è come se in qualche modo ci sia un rapporto di dipendenza ma di dipendenza ovviamente malsana con la compagna ufficiale tra l'altro è una carta di grado 3 che quindi ci può parlare evidentemente di una persona già impegnata o di una persona che potrebbe avervi nascosto un tradimento motivo per cui voi potreste averlo scoperto e quindi essere appunto nata poi la situazione che vi ha portato in questa stesa d'accordo quindi qui potrebbe esserci la presenza di una terza persona o potrebbe esserci stata che ovviamente ha portato scompiglio persona con la quale questa persona cioè il vostro uomo il vostro ex uomo fa fatica effettivamente a ovviamente chiudere ogni rapporto cioè fa fatica a prendere le distanze da questa terza persona che potrebbe aver causato il litigio o la rottura con voi quindi la compagna ufficiale piuttosto che appunto eventualmente un'altra donna potrebbe essere anche una madre potrebbe essere anche una sorella un'amica troppo invadente che potrebbe appunto con i suoi consigli aver portato comunque molto disagio nell'ambito del vostro rapporto quindi qui c'è l'intromissione di una terza persona perché il 3 di spade ci parla proprio di tre energie che obiettivamente non hanno un particolare rapporto idilliaco tra di loro quindi vi ripeto qui c'è una causa esterna alla problematica ma di cui lui non vi andrà a parlare in maniera definitiva cioè nel caso in cui sia una persona impegnata non è una persona che vi verrà a spiegare effettivamente come vanno le cose con la compagna ufficiale perché sino ad ora ancora non riesce a lasciarla potrebbe limitarsi a dire non andiamo d'accordo potrebbe limitarsi a dire siamo separati potrebbe limitarsi a dire non l'amo più ma non specifica realmente le motivazioni che portano questa persona ad essere ancora legato tuttora ovviamente quest'uomo a quest'altra donna d'accordo quindi vi ripeto parliamo di spade attenzione degli errori che questa persona potrebbe ricommettere d'accordo e potrebbe ovviamente portare di nuovo a dei contrasti d'accordo quindi in realtà in questo caso questa è una persona che ovviamente non sa gestire i conflitti ma soprattutto non sa gestire la propria emotività d'accordo quindi una persona che obiettivamente sa che deve rompere qualcosa perché il tre di spade parla di rottura o allontanamento sa che dovrà allontanarsi da questa terza persona ma obiettivamente fa fatica a farlo assolutamente perché il tre di spade parla proprio questo della difficoltà nel lasciarsi il passato alle spalle difficoltà nel chiudere con delle situazioni che fanno soffrire perché vedete qui abbiamo ancora un cuore sanguinante che ancora viene attaccato vedete da ovviamente dei nemici lui cerca vedete in qualche modo di chiudere queste ferite ma non ce la fa quindi attenzione perché questa persona non guarda soltanto poco dentro se stesso non riflette poco con se stesso ma rifletterà poco anche con voi quindi potrebbe non raccontarvi la realtà come stanno realmente le cose il problema che sta a monte del suo comportamento o di ciò che vi ha portato a questa rottura d'accordo ma potrebbe limitarsi semplicemente a darvi delle informazioni però superficiali e attenzione magari non del tutto realistiche d'accordo allora vediamo in questa posizione l'ambiente però a questo punto che condiziona questa persona vediamo un po' e qui abbiamo il 4 di coppe allora questa è una persona che si annoia profondamente è una persona che obiettivamente non trova stimoli l'unico stimolo che ha trovato appunto siete voi con questo 8 di denari questa è una persona che fa fatica anche ad accontentarsi delle piccole cose che ha perché è sempre in cerca di qualcos'altro cioè la classica persona che non è mai soddisfatta al 100% trova sempre qualcosa che non va quindi è anche una persona a mio avviso particolarmente pretenziosa visto che lui non brilla di maturità né ovviamente anche di capacità dialogiche quindi è sicuramente una persona che si lamenta tanto degli altri sempre discontinua una persona che si lascia affascinare sempre da qualcos'altro che cambia spesso direzione cambia spesso pensiero è una persona con una forte umoralità quindi nei momenti in cui si sente particolarmente energico e sereno come magari il presente dei momenti in cui appunto tende a sbagliare per momenti di pessimismo chiusura e di introspezione è una persona abbastanza altalenante che ha vi ripeto come vi dicevo col tre di spade grande disordine interiore è una persona che si conosce poco non sa mai effettivamente quello che potrebbe fargli bene non sa mai vedete scegliere tra queste quattro coppe come fa appunto questa ragazza non sa scegliere vedete qui c'è una mano che gli sta porgendo una quarta coppa ma lei sta rifiutando anche quella guardando altrove quindi è una persona che non dà importanza alle cose che comunque ha sotto i propri occhi e che magari sarebbero invece fondamentali per lui importanti per cercare sempre un qualcos'altro quindi è una persona che ha delle mete e anche degli obiettivi a volte irrealistici è una persona che sogna spesso ad occhi aperti ma per nulla concreta quindi vi ripeto è una persona anche molto annoiata al quattro di coppe ci parla di noia ci parla vi ripeto di apatia dalla quale assolutamente questa persona vuole uscire a tutti i costi nel caso in cui sia una persona impegnata chiaramente ci parla di apatia fisica di apatia erotica cioè questa è una persona che non si diverte più assolutamente con la compagna ovviamente che ha il proprio fianco la compagna ufficiale ma si sta lasciando sfuggire anche l'occasione con voi perché non vede le opportunità vedete che ha attorno a sé per guardare sempre a qualcos'altro perché non è mai abbastanza quello che ha questa persona quindi in realtà è una persona che si lamenta molto spesso del nulla ma perché lui ha un vuoto interiore perché lui ha un malessere mentale profondo ha una voglia di evadere un'apatia molto molto forte radicata in sé stesso quindi è una persona che ovviamente vuole cambiare rotta lo vuole il cambiamento sì peccato che però non lo sa assolutamente portare avanti anzi come vi ho detto col tre di spada è una persona che tende ad ancorarsi ovviamente al passato quindi sicuramente vi ripeto per carità non è un ambiente che lo stimola questo posso confermarlo perché il quattro di coppe ci parla di un ambiente che non lo stimola quindi evidentemente la compagna ufficiale non gli dà quello che lui vorrebbe o comunque diciamoci le cose come stanno evidentemente questa donna non gli piace più ovviamente fisicamente quindi non è più attratto d'accordo ma anche le persone ovviamente che gli stanno attorno quindi amici parenti colleghi non lo soddisfano cioè sembra sempre a questa persona che nessuno voglia aiutarlo che nessuno sia disposto ad aiutarlo in qualche modo o ad andargli incontro ma è ovviamente tutto derivato da un malessere interiore che ha questa persona perché vedete le opportunità ce le avrebbe ce le avrebbe come e anche in voi avrebbe un'ottima opportunità ma le carte ci stanno suggerendo che sta profondamente rischiando di perdervi perché sta rischiando di perdervi questa persona vediamo allora in questa posizione appunto che legame c'è ancora ad oggi con questa persona quindi obiettivamente quel filo rosso che ancora appunto vi lega appunto a questa persona vediamo un po' e in questo caso abbiamo il nove di bastoni allora nove di bastoni comunque una carta molto bella una carta molto importante che ci parla sicuramente vi ripeto di una persona che chiaramente è ancora molto legata a voi è un legame molto forte che sente con voi e che ha voglia addirittura di proteggere vedete dagli attacchi dell'esterno cioè questa è una persona che sente addirittura anche la necessità di proteggere il vostro rapporto da qualsivoglia nemico quindi obiettivamente è una persona che comunque tiene al vostro rapporto il nove di bastoni ci parla proprio di un rapporto solido il vostro cioè effettivamente tra di voi c'erano anche delle progettualità importanti questa è una persona che vi ripeto si è arricchita nel rapporto con voi perché chiaramente si è sentito anche a sua volta protetto quindi non vuole solo in qualche modo a volte proteggere il vostro rapporto ma è una persona che comunque se ne è sentito anche molto protetto soprattutto in particolar modo da voi perché il nove di bastoni ci parla proprio di ovviamente un successo che però ha tempi lunghi qual è diciamo l'aspetto se vogliamo più aspro del nove di bastoni l'attendere pazientemente perché ci saranno sicuramente tempi migliori se arriverà al successo ma ovviamente qui necessiterà di riflettere e soprattutto di pazientare quindi vi ripeto il nove di bastoni è una carta molto bella perché parla sicuramente di un compimento quindi sicuramente il vostro rapporto a livello karmico non si scioglierà ma è un rapporto che purtroppo procederà con grande lentezza d'accordo con lentezza con qualche piccolo ritardo con qualche diciamo piccola anche sospensione quindi anche momenti in cui magari vi sentirete o vedrete poco con dei ritardi dei litigi delle contrarietà quindi è un rapporto che necessiterà di tanta tanta pazienza le cui trattative e cui esito andranno sicuramente per le lunghe pur essendo positive vi ripeto cioè la meta è quasi realizzata perché è una carta di grado nove quindi qui ci potrebbe essere un reale cambiamento ma come vi dicevo col due denari è una persona ancora ferma al bivio cioè sa che deve scegliere questo è già un passo importante ma è ancora ferma al bivio quindi non ha ancora effettuato una scelta d'accordo quindi è una persona che ancora deve fare i conti con la propria interiorità ecco perché questi rallentamenti perché è una persona vi ripeto instabile è una persona annoiata è una persona che diciamo tende a sottolineare sempre piuttosto gli aspetti negativi di una situazione piuttosto che gli aspetti positivi d'accordo quindi sì la vittoria ci sarà assolutamente sì il vostro è un rapporto destinato a durare assolutamente sì è un rapporto vi ripeto molto forte che ha delle ottime basi che lui ha cercato di proteggere e dal quale si è sentito protetto ma vi ripeto il nove di bastoni ci parla sicuramente anche di trattative che vanno per le lunghe quindi qui ci vorrà veramente tanta pazienza perché qui di ostacoli di alti e bassi ce ne possono essere veramente per diverso tempo portati evidentemente anche da dei nemici d'accordo? quindi vi ripeto è un arcano molto potente per quanto riguarda sicuramente un rapporto d'amore ma ovviamente ci parla di necessità di pazientare ovviamente anche su tempistiche che potrebbero essere piuttosto lunghe vediamo in questa posizione il consiglio degli arcani e qui abbiamo il dieci di bastoni allora ragazzi ovviamente se volete vi ribadisco quello che vi ho detto con il nove di bastoni cioè qui il successo c'è con anche dieci di bastoni ci viene riconfermato qual è il problema però del dieci di bastoni è che sarà un successo sudato ve l'ho detto con l'otto di denari e ve lo ribadisco anche con il nove di bastoni cioè questa è una persona che ovviamente necessiterà grande pazienza da parte vostra quindi è una persona che molto spesso necessita quasi di essere presa per mano perché è una persona in grande difficoltà è una persona che ha delle difficoltà interiori ragazzi delle difficoltà interiori notevoli al di là della sua situazione economica familiare e finanziaria che qui invece sembra ovviamente procedere abbastanza bene ma questa è chiaramente una persona che sta facendo molta ma molta fatica per riprendere una situazione di equilibrio è chiaro che è una situazione che evidentemente affonda le proprie radici nel passato questa non è stata mai una persona facile né con voi né anche eventualmente con altri partner è sempre stata una persona complicata che vi ripeto parla poco di sé è una persona molto silenziosa o comunque al di là di quello che possa dire non affronta mai il problema per quello che è realmente ma cerca sempre delle scorciatoie cioè una persona che tende sempre a parlare di situazioni di argomenti superficiali ma non va mai al dunque quindi una persona che tende sempre a in qualche modo rimanere distante rispetto a voi nonostante chiaramente tutto quello che voi gli abbiate dato sino ad ora ecco perché vi dicevo con il 4 di coppe sta rischiando di perdervi perché perché non vi nego e non ve lo negano neanche gli arcani che con i 10 di bastoni qui il lavoro sarà lungo quindi sicuramente il ritorno di questa persona o comunque nel momento in cui questa persona vi ripeto vi ricercherà vi richiamerà non sarà assolutamente risolutivo ve lo dicevo anche poco fa anzi sarà semplicemente una parte di un grande percorso che qui ancora si dovrà portare avanti perché vi ripeto il 10 di denari parla di fatica parla di situazione a vedete diverse tappe qui vedete ci sono molti pesi che ovviamente devono essere portati quindi vi ripeto qui ci vuole pazienza e anche tempistiche non velocissime perché comunque 10 di bastoni ci parla di sicuramente tempistiche che vanno oltre il mese di attesa d'accordo? quindi vi ripeto è una situazione che porterà sicuramente al successo ma ovviamente richiederà da parte vostra una totale abnegazione dunque sta a voi decidere se vale la pena o meno aspettare le tempistiche di questa persona attendere che comunque questa persona metta ordine nella propria interiorità oppure cambiare direzione perché qui ci sono situazioni che possono portare a stress perché il 10 di bastoni parla di affaticamento e di stress di situazioni che ovviamente potrebbero diventare un po' troppo pesanti e che obiettivamente potrebbero includere vi ripeto anche momenti di stress ma anche dei sotterfugi dei piccoli inganni delle piccole menzogne ve lo dicevo con il 3 di spade quindi una persona che in qualche modo agisce sempre solo per fini personali in maniera fortemente egoistica d'accordo? quindi è una persona che può rischiare di causare anche a voi grosse tensioni emotive quindi spetta a voi la decisione è chiaro che la vita è vostra è chiaro che voi siete liberissime di scegliere come e con chi portarla avanti quindi nel caso in cui per voi un giorno diventi troppo pesante questa situazione voltate pagina proprio come sta facendo lui che in questo momento sta temporeggiando quindi non cercate di caricarvi di compiti che competono gli altri cioè non addossatevi troppi oneri non fate da crocerossina questa persona non cercate in qualche modo di portare questa persona ad un'evoluzione perché voi non siete sua madre voi non siete la sua psichiatra voi non siete la sua psicologa questo è un lavoro che ovviamente va lasciato ad una mamma a professionisti o anche visto che stiamo parlando di una persona poco matura come nel mio caso appunto a noi psicopedagogisti quindi ovviamente non accollatevi di impegni che non vi competono di ruoli che non vi competono la vita è unicamente vostra felicità mirate alla vostra felicità ragazzi io non smetterò mai di ripeterlo in ogni video in ogni stesa mettetevi come primo obiettivo l'obiettivo è che voi viviate felici che voi siate felici non ci devono essere persone che abbiano la totale priorità rispetto alla vostra vita alla vostra felicità non è vostro figlio questa persona non dovete svezzarlo d'accordo è una persona che deve crescere ponendosi anche di fronte alle proprie responsabilità perché vi ripeto è una persona troppo infantile è una persona che lo dicevo anche con il nove di bastoni si sente troppo protetta anche nell'ambito del vostro rapporto si è sentita protetta da voi questa persona sino ad ora e ora probabilmente gli manca un po' il terreno sotto i piedi ma attenzione non dovete prendervi cura di questa persona voi dovete avere questa persona al vostro fianco deve essere il vostro partner non il vostro paziente mi raccomando d'accordo quindi vi ripeto qui la strada è lunga da percorrere potrebbe portare al successo assolutamente sì ma ovviamente qui stiamo parlando comunque di tempistiche lunghe che vanno sicuramente oltre il mese abbondantemente oltre il mese e comunque situazioni che non si aggiustano subito nel momento in cui questa persona vi richiamerà ma sarà solo una minima parte di tutto il percorso che qui c'è da fare perché questa persona è in un momento di profondo disequilibrio non sa neanche lui cosa vuole d'accordo quindi la scelta aspetta solo a voi non esitate a scegliere quello che vi fa stare bene mi raccomando cercate di essere felici ragazze combattete per la vostra felicità e se questa persona chiaramente sta diventando così pesante al punto di avervi ferito e al punto per cui voi siate in questa stesa cercate di rifletterci bene d'accordo allora vediamo però in ultima posizione ovviamente come evolverà quindi il futuro tra voi e questa persona come agirà questa persona ovviamente ragazze a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano perché voi sapete che ogni arcano ovviamente ha le proprie tempistiche vediamo un po' allora in questo caso abbiamo la carta del matto allora di nome di fatto questa persona obiettivamente allora questa è una persona sicuramente come vi ho detto mamma mia particolarmente umorale è una persona che in realtà ha una serie di pensieri di progettualità che gli balenano in un secondo nella mente per poi appunto disfarsene riprenderle ritornare sui suoi pensieri fermarsi ricominciare con energia cioè è una persona che effettivamente l'equilibrio lo conosce molto poco chiaramente il matto è una carta molto bella cioè non è una carta negativa anzi è una carta molto positiva e ovviamente guardate la stesa si apre con un otto di bastone e si chiude con la carta del matto con due carte che portano a leggerezza momenti di spensieratezza anche momenti eroticamente diciamo così importanti quindi ben vissuti che possono comunque portare a pieno soddisfacimento ma chiaramente questa è una persona che vi ripeto tornerà senza progettualità perché la caratteristica del matto qual è? di vivere in un eterno presente il matto è l'eterno Peter Pan quindi questa è una persona che potrebbe anche come vi dicevo all'inizio comunque farvi delle dichiarazioni d'amore importanti però ragazze per favore prendete qualsiasi cosa dica questa persona con le pinze cioè non si tratta di ridergli in faccia o di non credere alle sue parole ma ovviamente si tratta comunque di comunque recepire queste informazioni con una certa razionalità mi raccomando perché questa è una persona veramente che fa vivere gli altri veramente sulle montagne russe cioè è una persona che vive la propria interiorità in maniera veramente poco ma poco equilibrata e che rischia ve l'ho detto con il 10 di bastoni di far vivere anche delle situazioni di grande stress a voi quindi questa è una persona che sicuramente adesso vi tornerà immediatamente ve l'ho detto quindi con delle comunicazioni a breve tra l'altro vi ripeto l'otto di bastoni ci parla comunque di comunicazioni entro qualche giorno qualche settimana al massimo e addirittura la carta del matto ci parla di tempi brevissimi entro al massimo una settimana massimo una decina di giorni quindi questa è una persona che sicuramente vi vuole di nuovo ricontattare il giorno dedicato ovviamente al matto è il martedì quindi potrebbe appunto scrivervi prevalentemente o con energie maggiormente favorevoli nel giorno di martedì ed è sicuramente vi ripeto una persona che tornerà da voi per riallacciare comunque il rapporto con voi ma qual è la caratteristica ve lo ripeto del matto il fatto di comunque voler portare avanti le situazioni con leggerezza che per carità è una leggerezza ottima però come vi dicevo con il tre di spade questa è una persona che non vuole tornare sull'argomento quindi non ha nessuna intenzione sicuramente di approfondire le problematiche che lo hanno portato ad agire in maniera negativa appunto nei vostri confronti e a ferirvi quindi tendenzialmente tenderà a omettere a nascondere e soprattutto è una persona che si avvicinerà a voi con una certa leggerezza e con poco impegno in maniera entusiastica assolutamente sì per vivere avventure libertà un momento di allegria con voi ma ovviamente è una persona che non vi espliciterà in maniera chiara il proprio reale malessere cioè non è una persona che sino ad ora si è guardata dentro e che soprattutto ha intenzione di guardarsi dentro quindi per rispondere alle domande ovviamente iniziali della stesa questa persona ha capito di aver sbagliato no questa persona si è guardata dentro ha capito che in qualche modo è giusto che mi chieda perdono che mi chieda scusa no quindi non vi aspettate che questa persona possa ritornare chiedendovi perdono è una persona che ritornerà vi ripeto ve l'ho detto proprio con l'energia dell'otto di bastoni quindi in maniera gioiosa in maniera gioviale amichevole è una persona che comunque potrebbe anche vi ripeto parlarvi di sentimenti di qualcosa di positivo ma mi raccomando cercate di prendere tutte le dichiarazioni di questa persona con le pinze agirà sulla scorta dell'impulsività appunto il matto il matto segue il proprio istinto cioè questa persona ha voglia di vedervi ha voglia di toccarvi ha voglia di passare un momento eroticamente forte con voi vi chiama quindi vi scriverà è una persona che sicuramente agirà in maniera stravagante in maniera comunque spensierata anche un po' innocente però vi ripeto con poca spiritualità e sicuramente poca interiorità d'accordo? quindi qui ci sarà una sorpresa perché il matto parla di sorpresa parla di cambiamenti imprevisti da una situazione che questa persona potrebbe cogliere al volo per potervi appunto sentire o vedere quindi il matto parla sicuramente di comunicazioni quindi lettere comunicazioni messaggi telefonate inaspettate quindi voi potreste non aspettarvi una chiamata in un determinato momento della giornata da parte di questa persona ma questa persona la farà perché ha voglia di vivere questo momento ovviamente con voi sulla scorta vi ripeto di un istinto d'accordo? sì il matto parla di libera scelta parla anche di azzardo parla anche di rischio quindi nel caso in cui sia una persona impegnata potrebbe rischiare per esempio di vedervi magari con la propria compagna attorno e questo poco gli importerà ma ovviamente ragazzi attenzione questo non implica il fatto che lui abbia scelto voi e che voglia lasciare lei è una persona che vi ripeto agisce sulla scorta di un istinto di un impulso che lo porterà a voi ma sicuramente non ad una presa reale di posizione d'accordo? il matto ci parla di progettualità sì ma non riferite ad un grande futuro a qualcosa di immediato quindi vedervi sentirvi e godere con voi di determinati momenti ma mi raccomando cercate ovviamente di capire che questa è una persona che come si sente libera di tornare da voi così si sentirà libera anche per esempio di starvi lontano comunque di prendersi questa tempistica per lui magari breve per voi invece sarà molto pesante come vi dicevo con il dieci di bastoni per poter scegliere e decidere con non curanza sia del pericolo perché appunto rischierà di vedervi ma comunque anche in qualche modo non curanza nei vostri confronti d'accordo? quindi una persona che obiettivamente agirà al di fuori di determinati schemi sicuramente vi trascinerà in un momento di grande allegria in un momento positivo ma attenzione alla positività e alla stravaganza del matto d'accordo? perché sicuramente è una persona che ovviamente si sentirà sicuramente felice di stare con voi ma ovviamente vi ripeto attenzione perché non ha una reale progettualità futura è ancora ferma al vivio d'accordo? però questa persona vi ricercherà vi richiamerà assolutamente sì ma ovviamente ragazze non vi aspettate che questa persona possa cantarvi una serenata chiedendovi perdono o che questa persona in qualche modo possa rendersi conto di quello che in qualche modo possa obiettivamente aver combinato è una persona ve lo ripeto che rimane alla superficie ricordatevi sempre questo tre di spade quando avrete questa persona davanti agli occhi ok? quindi c'è qualcosa che non vi sta raccontando e che non tirerà fuori perché questa persona ha il terrore di sentire il dolore quindi non vuole entrare a contatto con le proprie emozioni e anche con la propria ombra l'ombra appunto miunghiana questa è una persona che vive di superficie ora chiediamo appunto agli oracoli di Agatha Giordano tre carte e quindi tre riflessioni tre pensieri che questa persona sta appunto facendo in questi giorni in questo momento dopo quello che appunto è accaduto tra di voi vediamo un po' perfetto allora in questa posizione abbiamo sono geloso allora questa è una persona gelosa chiaramente perché ovviamente standovi lontano teme che in qualche modo voi possiate appunto scegliere ovviamente la strada che anche vi è implicitamente consigliata dagli arcani d'accordo quindi un'altra strada e quindi un'altra persona è una persona gelosa è una persona che ovviamente ve lo dicevo con il nove di bastoni si sente protetto all'interno del vostro rapporto e vuole proteggerlo quindi anche da eventuali terze persone quindi rivali quindi è una persona gelosa che potrebbe controllarvi per esempio anche sui social piuttosto che controllare il vostro stato whatsapp telegram cioè una persona che tende molto a controllarvi per capire molto i vostri movimenti perché chiaramente è una persona che tiene molto a voi ve l'ho detto con il nove di bastoni non è una persona che ha intenzione di chiudere però è una persona molto altalenante ok vediamo in questa posizione no allora la carta del no rappresenta appunto la risposta alla domanda o alle domande della stesa in questo mazzo oracolare abbiamo no e sì che rappresentano appunto si riferiscono alla domanda che viene fatta principale ovviamente della stesa quindi questa è una persona che si è guardata dentro no è una persona che vi chiederà scusa no è una persona che approfondirà la propria interiorità no ragazzi che cosa vi ho appena detto con la carta del matto quindi questa non è una persona che vi ripeto tornerà con una gran presa di posizione soprattutto una gran coscienza assolutamente no è molto inconsapevole questa persona è tremendamente infantile è una persona infantile e inconsapevole ha una interiorità particolarmente difficile è sempre stata così questa persona ve l'ho già detto vediamo in appunto questa posizione terza posizione non ero pronto perfetto ragazzi che cosa vi ho detto con il due di denari che questa persona non è pronta a fare una scelta quindi nel caso in cui sia una persona impegnata non è questa persona pronta ad effettuare una scelta quindi ovviamente in qualche modo a mettersi in gioco iniziando una nuova storia nel caso in cui sia una persona libera è una persona che non era pronta ad iniziare e non è pronto secondo me tuttora ad iniziare un rapporto ovviamente con voi molto più importante d'accordo quindi questa persona non era pronta ad una discussione sana con voi non era pronta ad una discussione equilibrata con voi questa è una persona che obiettivamente interiormente ha talmente tanta confusione ha talmente ancora tanta strada da dover fare per diventare grande che questa persona obiettivamente anche tutt'oggi non è pronta d'accordo nel caso in cui voi mi chiediate ma questa persona ovviamente ha pagato sta pagando per comunque avermi fatto soffrire per il male che mi ha causato no perché questa non è una persona vi ripeto vedete la risposta è no anche in questo caso perché non è una persona che ha fatto i conti con se stessa cioè non è una persona che sta provando ovviamente un dolore lancinante non è un 10 di spade per cui questa persona ha capito che deve chiudere un ciclo per iniziarne un altro sa per esempio con l'eremita di aver perso qualcosa qui c'è una persona che non riesce ad allontanarsi dal passato 3 di spade una persona che è ferma ad un bivio una persona annoiata che vi desidera 8 di bastoni 9 di bastoni e matto è una persona che molto probabilmente ripeterà gli stessi errori in futuro appunto 10 di bastoni è una persona che vede in voi la donna ideale ma che obiettivamente non è pronta per qualcosa di più importante e questa potrebbe essere la reale causa del suo comportamento qualsiasi esso sia è una persona troppo immatura quindi non è pronta non soltanto ad un rapporto serio con voi ma non è pronta la vita questa persona perché questa non è una persona che sa prendersi le responsabilità di ciò che combina non sa fare i conti con se stessa questa persona quindi chiaramente è una persona che non ha approfondito non è entrata ancora in contatto con il proprio dolore non lo vuole fare è terrorizzato dal farla di conseguenza rimane sulla superficie cosa che appunto farà a breve quindi attenzione anche al ritorno che sicuramente vi darà grandi soddisfazioni soprattutto da un punto di vista erotico però ragazzi prendetevi ripeto con le pinze qualsiasi cosa questa persona possa parlarvi anche di un'eventualità di progettualità futura perché qui abbiamo il matto questa è una persona che di strada dieci di bastoni ne deve fare ancora tanta d'accordo quindi spetta a voi decidere perché voi sareste pronte ma lui no d'accordo però vi ripeto è una persona gelosa gelosa perché perché voi gli piacete perché vi considera appartenente alla sua vita chiaramente alla sua interiorità questo sicuramente anche nel caso in cui sia una persona impegnata abbiamo visto che con la compagna ufficiale c'è questo 4 di coop e quindi il nulla praticamente noia e apatia e insoddisfazione quindi è normale che sia geloso di voi questo sicuramente denota emotività sicuramente però ragazze io vi sottolineo un ultimo diciamo elemento non è comparsa una carta di coppe in questa stesa se non il 4 di coppe che è una carta negativa quindi è una persona che non riflette quei sentimenti ve l'ho già detto dall'inizio riflette troppo troppo poco d'accordo dunque questa è stata una stesa molto diciamo completa spero che comunque vi abbia aiutato ad avere diciamo un'immagine forse anche più completa della persona che appunto avete avuto avete al vostro fianco dopo questo momento di negatività e di conseguenza come sempre ragazze mi raccomando ascoltate il consiglio del 10 di bastone ovviamente se volete avete due strade davanti a voi o procedere con questa persona oppure ovviamente procedere per un'altra strada che però sia magari più consona e ovviamente più divertente anche e soprattutto per voi d'accordo di conseguenza come dico sempre buona fortuna